amici di auto occasioni oggi mi trovo per voi dalla concessionaria logica biella e con me naturalmente emanuele ciao emanuele ciao elisa ciao siamo in via della repubblica 60 proprio a biella una delle due sedi perché l'altra invece si trova a gaglia nico sì esatto infatti vi aspettiamo qui a biella in centro città con tutto il gruppo ex fca quindi alfa romeo fiat lancia e abarth oltre ai veicoli commerciali abbiamo anche kia qui il salone kia vi aspetta mentre a gaglia nico c'è tutto il gruppo psa quindi citroen peugeot e opel quindi assolutamente ben organizzati tantissime le novità in questa puntata quindi seguiteci davvero e partiamo con la primissima sì infatti proprio novità di fine maggio abbiamo in salone la 600 hybrid quindi il 100 cavalli ibrido con cambio automatico tanto atteso e l'ultima edizione della 500 invece ibrida quindi quella non elettrica la classica nella sua versione collezione bellissima dovete venire a vederla perché è veramente un gioiellino so anche che qui in showroom sono arrivate delle novità per chi anche non ha la patente esatto infatti se fino ad oggi potevi entrare in logica solo con la patente b oggi questa cosa è cambiata perché abbiamo in pronta consegna le fiat topolino le citroen ami quindi guidabili da 14 anni con patentino e novità anche le yo yo tutti i veicoli elettrici adatti alla città due posti perfetti proprio per muoversi nel traffico urbano ho detto in apertura tantissime novità novità anche in jeep sì infatti a breve arriverà anche finalmente la venger ibrido 4x4 quindi con trazione integrale come una vera jeep atteso anche questo da più di un anno affiancato dalla sua cugina alfa romeo la alfa romeo junior vi invito anche ad andare a visualizzare le pagine social perché perché voi fate anche tantissime porte aperte per chi naturalmente in settimana non può venire qui in showroom assolutamente infatti per chi lavora sei giorni a settimana abbiamo sempre almeno due domeniche di apertura mensile proprio per agevolare tutti i nostri clienti e allora cominciamo ad andare a scoprire le proposte di questo mese seguiteci e per questo mese ho selezionato per voi la gamma tributo di alfa romeo con questa julia 210 cavalli trazione integrale q4 a 54.900 euro in promozione e con formula free 96 549 euro al mese tutto incluso ed il fratello maggiore alfa romeo stelvio sempre tributo italiano con vernice rosso e tetto nero a contrasto 210 cavalli trazione integrale q4 in promozione a 59.900 euro e con formula free 96 599 euro al mese tutto incluso siamo nel salone delle occasioni occasioni vere qui da logica biella quindi andiamo a scoprirle insieme alfa romeo giulia allestimento super col 22 180 cavalli trazione posteriore 89 mila chilometri anno 2017 a 24.900 euro audi a uno sportback mille tfsi benzina sei marce manuale con 38 mila chilometri allestimento admired anno 2020 a 23.900 euro rarissimo jeep wrangler tre porte 2000 turbo benzina ottantesimo anniversario colore rosso con 17.800 chilometri anno 2021 a 55.900 euro ford kuga st line 1500 eco blu 2 wd da 120 cavalli con cambio automatico chilometri 72.900 anno 2020 a 23.490 euro fiat 500 lounge 1.3 multijet da 95 cavalli guidabile da neopatentati con 59.000 chilometri anno 2016 a 11.900 euro fiat 500 rockstar 1.2 benzina da 69 cavalli guidabile da neopatentati con 24.000 chilometri anno 2020 a 15.900 euro e fiat 500 sport mille benzina ibrido da 70 cavalli guidabile da neopatentati con 36.000 chilometri anno 2021 a 13.900 euro alfa romeo mito 1.3 jtdm impression da 85 cavalli guidabile da neopatentati con 90.000 chilometri anno 2014 a 7.900 euro nissan x3 il 1.7 dc i n connecta due ruote motrici con cambio automatico 78.000 chilometri anno 2019 a 20.900 euro dacia duster mille tce essential con 100 cavalli 29.000 chilometri anno 2021 a 17.900 euro jeep compass 1.3 turbo benzina plug-in quattro ruote motrici da 190 cavalli chilometri 79.000 anno 2021 a 31.900 euro volkswagen golf life 2000 turbo diesel da 150 cavalli con cambio automatico 79.000 chilometri anno 2020 a 25.900 euro e jeep renegade business 1.6 multijet da 130 cavalli con 79.000 chilometri anno 2021 a 22.900 euro allora emanuele abbiamo quasi concluso questa puntata ricordiamo di andare a visualizzare i social perché ci sono le porte aperte che consentono le domeniche di venire qui in showroom sì esatto e provare la bellissima 600 ibrida che ho qui alle mie spalle e la nuova 500 collezione oltre a tutti gli altri modelli che abbiamo annunciato in apertura vi ricordo anche che sarete seguiti nel post vendita dico bene sì infatti vi aspettiamo a gaglianico in via matteotti 129 per tutta la parte officina e carrozzeria grazie a un super professionista come te e un saluto a tutti voi vi aspetto alla prossima puntata ciao